47. Le ruote della bicicletta suonavano una melodia nel buio. Ogni tanto passavano su un cadavere o aggiravano il relitto di un'automobile, ma le gambe che le tenevano in movimento avevano forza da vendere. Con le scarpe bicolore sui pedali, l'uomo si sporgeva in avanti e pedalava sull'interstatale 80, a circa 20 chilometri a est del confine con l'Ohio. Le ceneri di Pittsburgh macchiavano il suo abito. Aveva trascorso due giorni tra le rovine, vi aveva trovato un gruppo di sopravvissuti e aveva guardato nelle loro menti alla ricerca della donna con il cerchio di vetro. Ma non l'aveva trovata. E prima di andarsene, li convinse tutti che mangiare la carne bruciata dei cadaveri era una cura per l'avvelenamento da radiazioni. Li aveva addirittura aiutati a iniziare con il primo. Buon appetito, pensò. Sotto di lui, le sue gambe pompavano come pistoni. Dove sei? Si chiese. Non puoi essere arrivata così lontano. Non ancora. A meno che tu non stia correndo giorno e notte, perché sai che ti sto alle calcagna. Quando i lupi erano usciti dalla foresta, prima per azzannarlo e poi per fargli le feste. Aveva pensato che l'avessero presa loro, molto indietro, nella Pensilvania orientale. Ma se fosse stato così, allora dov'era la borsa di pelle? La sua faccia non c'era stata nemmeno nelle menti delle sentinelle a Homewood e se lei fosse arrivata lì di certo le avrebbe incontrate, quindi dov'era? E cosa più importante dove era la cosa di vetro? Non gli piaceva l'idea che fosse là fuori da qualche parte. Non sapeva che cosa fosse o perché era stata creata. Ma qualunque cosa fosse, lui voleva schiacciarla sotto i suoi piedi. Voleva romperla in frammenti minuscoli e schiacciarli nella faccia della donna. Sorella, pensò, e fece un ghigno. Le sue dita strinsero il manubrio. Il cerchio di vetro doveva essere trovato. Doveva. Questa era la sua festa adesso e cose simili non erano permesse. Non gli piaceva il modo in cui la donna aveva guardato quell'oggetto e non gli piaceva nemmeno il modo in cui lei aveva lottato per tenerselo. Le dava false speranze per cui in realtà era una cosa molto umana trovare il cerchio di vetro, farlo a pezzi e farle mangiare le schegge. Non si poteva dire quanti altri la donna avrebbe potuto infettare se non fosse stata fermata. Forse era già morta. Forse uno della sua stessa specie l'aveva uccisa e le aveva rubato la borsa. Forse, forse, forse. C'erano troppi forse. Ma indipendentemente da chi lo possedesse o dove fosse, fosse. Lui doveva trovare il cerchio di vetro perché una cosa del genere non doveva esistere e quando era diventato scuro e freddo nella sua mano, lui aveva capito che la cosa stava leggendo nella sua anima. «Questa è la mia festa!» gridò e passò su un uomo morto che giaceva sul suo percorso. Tuttavia c'erano così tanti posti in cui cercare, così tante autostrade da seguire. Doveva aver lasciato la interstatale Ottanta prima di raggiungere Homewood. Ma perché avrebbe dovuto? Ricordò di averle sentito dire «continuiremo ad andare verso Ovest» e lei avrebbe seguito la linea di minore resistenza, no? Poteva aver trovato riparo in uno dei paesini tra Jersey City e Homewood? Questo avrebbe voluto dire che lei si trovava dietro di lui, non davanti. «Ma tutto e tutti erano morti a est di Homewood e di quella dannata stazione della Croce Rossa, giusto?» rallentò, superando un cartello distrutto, su cui si leggeva «New Castle», prossima uscita a sinistra. Sarebbe dovuto uscire per trovare una mappa da qualche parte e forse tornare sui suoi passi, seguendo un'altra autostrada. Forse lei si era diretta a sud e aveva completamente mancato Homewood. Forse si trovava su una strada di campagna da qualche parte, proprio in quell'istante, accovacciata accanto a un fuoco da campo, a giocare con quella dannata cosa di vetro, forse, forse, forse. Era un paese grande, ma ragionò. Lui aveva tempo e lasciò la interstatale Ottanta all'uscita di Newcastle. Aveva domani e il giorno dopo, e quello dopo ancora. Era la sua festa adesso. E le regole le faceva lui. L'avrebbe trovata, oh sì, l'avrebbe trovata. E le avrebbe infilato quell'anello di vetro nel... Si rese conto che il vento era calato. Non soffiava più così forte come appena qualche ora prima. Era per quello che ancora non era riuscito a cercare come si deve. Aveva problemi a cercare quando il vento era così impetuoso. Ma il vento era anche suo amico, perché spargeva la polvere della festa. Si leccò un dito con la lingua ruvida, da gatto, e lo sollevò. Sì, il vento si era decisamente indebolito, anche se folate occasionali ancora gli soffiavano in faccia, portandogli l'odore di carne bruciata. Era ora di iniziare. Anzi, era in ritardo. La sua bocca si aprì, si allargò, e iniziò ad allargarsi ancora di più, mentre i suoi occhi neri guardavano da un volto bello. Una mosca ne uscì e strisciò sul suo labbro inferiore. Era di un orrendo verde scintillante, quel genere di mosca che può uscire dalle narici di un cadavere gonfio. Restò in attesa lì, con le ali iridescenti che si contorcevano. Un'altra mosca strisciò fuori dalla sua bocca, poi una terza, una quarta e una quinta. Ne uscirono altre sei, e si aggrapparono al suo labbro inferiore. Un'altra dozzina fuoriuscì come una marea verde. Qualche secondo dopo, ci furono cinquanta o più mosche intorno alla sua bocca, una schiuma verde che ronzava e si contorceva con anticipazione ansiosa. «Via!» sussurrò. E il movimento delle sue labbra ne fece volare in aria un primo gruppo, con le ali che vibrarono nel vento fino a quando non riuscirono a trovare l'equilibrio. Altre decollarono, nove o dieci per volta, e le loro formazioni si diressero in tutte le direzioni della bussola. Erano parte di lui, e vivevano nel sotterraneo umido della sua anima, dove crescevano cose simili, e dopo aver percorso lentamente il loro giro di quattro o cinque chilometri, sarebbero tornate da lui, come se lui fosse il centro dell'universo. E al loro ritorno lui avrebbe visto quello che loro avevano visto, un fuoco acceso che riverberava da un anello di vetro, o il suo volto, mentre dormiva in una stanza in cui si credeva al sicuro. Se non l'avessero trovata stanotte, c'era sempre domani. E il giorno dopo, presto o tardi, avrebbero trovato una fessura in una parete che lo avrebbe condotto da lei, e questa volta avrebbe ballato sulle sue ossa. Il suo volto era rigido, gli occhi dei buchi neri in una faccia che avrebbe spaventato la luna. Le ultime due cose che sembravano mosche, ma che erano estensioni delle sue orecchie e dei suoi occhi, uscirono tra le sue labbra e decollarono, dirigendosi verso sud-est. E di nuovo le sue scarpe bicolore spinsero i pedali, le ruote della bicicletta accantarono e i morti furono schiacciati lì dove si trovavano.